In via del Molinuzzo sorgeranno due nuovi piccoli alberghi da 10 camere ciascuno al servizio delle attività dei pronto moda del Macrolotto 1 e del campo di golf. Strette tra via Toscana e il Residence Golf Hotel, le due strutture saranno il frutto del cambio di destinazione d'uso degli spazi al primo piano degli immobili ai civici 83 e 93 che attualmente ospitano uffici direzionali. Il piano attuativo è stato presentato da Edilgest, proprietaria di tutto l'edificio a terziario. I due piccoli alberghi avranno una superficie di 460 metri quadri ciascuno, saranno dotati di sala reception con soggiorno e bar. L'obiettivo dei proponenti è intercettare il gran numero di persone che ogni giorno frequenta il Macrolotto 1 per lavoro, soprattutto a caccia di abbigliamento low cost realizzato nei pronto moda gestiti da cittadini cinesi. Esiste una discreta domanda alberghiera dovuta all'espansione del settore dei pronto moda che ha fatto del Macrolotto il centro più importante d'Europa, si legge nella relazione allegata al piano. La clientela è molto articolata e va dal negoziante rappresentante tessile, dal tecnico dei macchinari tessili al golfista che disputa gare nel weekend.